Direttore Tardiole, il Festival della Cultura Paralimpica, l'INAIL è presente a questo importante appuntamento, qual è il valore di questo evento? L'INAIL non poteva mancare perché da molti anni per INAIL la collaborazione col Comitato Paralimpico è una delle importanti declinazioni del reinserimento delle persone con disabilità. Nella collaborazione con il CIP e con Luca Pancalli abbiamo tanto discusso e sperimentato percorsi per utilizzare lo sport come strumento di riabilitazione vera e propria che si integra con i percorsi più tradizionalmente clinici di riabilitazione registrando risultati e successi importantissimi che ci convincono nello stringere ancora di più questa storica collaborazione ed è per questo che INAIL è presente al Festival.